Buone notizie dunque per la zona industriale di Bellocchi. Sì, nel senso che questa mattina è stata fermata una convenzione tra il Comune di Fano, la Regione Marche, Asur, Arpam e la ditta Profrigas, in base alla quale sarà presto attivata una centralina per monitorare la qualità dell'aria. È un intervento anche finanziariamente significativo, la centralina arriverà entro la fine dell'anno e a inizio anno, quindi gennaio 2016, sarà attiva. È importante perché ci permetterà non solo di controllare con quattro stalli dislocati nell'aria industriale la qualità dell'aria in tutta l'area, ma sarà anche possibile con i dati validati poter informare quotidianamente i cittadini di quelli che sono i risultati del monitoraggio, quindi anche un'azione di trasparenza e di informazione, oltre a un passo importante verso la tutela e la salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente. Mi piace ricordare che questo è un passaggio che arriva alla fine di un lungo percorso di tavoli tecnici che hanno visto coinvolti tutti questi soggetti e serve a garantire per la prima volta in maniera sistematica un controllo sulla qualità dell'aria H24.